. Negazione e bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 14 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Giornata impegnativa ma senza storie. Impegnativo questo venerdì, ma senza storie particolari, la Luna in sesta casa vi fa sgobbare, tuttavia con Marte in trigono e Saturno in sestile fisicamente vi sentite piuttosto bene in forze, mentre la mente, concentrata sui propri impegni, non si distrae neppure in un ambiente rumoroso. Piccoli segreti di cuore, vostri e altrui, dovranno rimanere dove stanno, quindi labbra cucite. Raccomandata prudenza al volante, se non volete trovarvi coinvolti in una carambola, la Luna vi salva la pelle, quanto all'auto. Non resta che rivolgersi a San Cristoforo, patrono dei viaggiatori. Un uomo discretamente severo e autoritario, che ha superato sicuramente i 40 anni. Un messaggero di pericoli, ostacoli, difficoltà, un uomo abituato al comando, che veste una divisa, come un poliziotto, un avvocato, un ufficiale giudiziario che viene a voi con cattive notizie. Molte maldicenze e calugne in giro sul vostro conto. La fortuna non è dalla vostra, non tentate la fortuna, non oggi. Non è che forzando la mano su una questione che otterrete i migliori risultati, anzi insistendo troppo rischiate di perdere il contatto con la realtà e farvi illusioni. Pericolose. Tutti i vostri buoni propositi non sono riusciti, fino ad oggi, a meritarvi le giuste soddisfazioni. Non credete che sia giunto il momento di avviare una seria riflessione sul da farsi? Potreste pensare di organizzare con gli amici un piccolo viaggio, dividendo le spese tutto potrebbe riuscire alla perfezione e potreste davvero divertirvi. Buone occasioni per conquistare la fiducia e la stima degli altri a patto che portiate a termine ogni impegno della giornata che vi siete prefissati. Oggi prendete in considerazione la possibilità di fare pulizia tra le vostre amicizie e rivedere i rapporti con le vostre conoscenze e i vostri colleghi. Alcune casualità voi svelaranno che una persona vicina a voi è segretamente innamorata di voi. Provate a rispettarla, soprattutto per la discrezione tenuta fino ad oggi. Potreste incontrare delle difficoltà a causa di urano non proprio ben disposto, del resto già dal primo mattino è come se sentiste qualcosa che vi frena. Non abbiate troppa fretta e prendetevela con calma. Il comportamento ambiguo di un amico ti disorienterà. Pazienza. Oggi, per ottenere ciò che desideri dovrai essere molto più deciso. Cielo di metà luglio che esibisce influssi astrali positivi, specie da pianeti come Giove e Urano. La configurazione mostra le vostre qualità specifiche capricornine come l'impegno, il lavoro indefesso, la praticità, qualità che vi permettono di primeggiare ovunque. La luna sgobbona in sesta casa vi ricorda che per rimettere in sesto i risparmi bisogna rimboccarsi le maniche, soprattutto se avete figli da far studiare all'estero o vi siete prenotati vacanze stratosferiche all'altro capo del mondo. Insolito per uno sparagnino del capricorno, ma dopo anni di limitazioni ora volete il vostro risarcimento e ve lo prenderete. Marte intrigono scalpita per partire, a dargli contro però il vostro astro guida Saturno che frena i suoi bollori ricordandovi l'imperativo della pazienza e della razionalità. Amore ed Eros. Passione intensa ma tenuta a freno, magari neppure confessata. Davanti alla forza del cuore vi sentite inermi, in preda a qualcosa di troppo forte che non siete in grado di controllare, infatti vi spaventa. Cotta incendiaria esplosa in vacanza, il problema sarà il rientro con un'inevitabile e coercitiva separazione. Desideri segreti bollono in pentola, ma per ora non vi va di confessarli. Esibite una simpatia irresistibile, che, quando volete, sapete tirar fuori, essendo capaci di provarvi con l'ilarità e il senso dell'umorismo. Urano, Plutone e Nettuno vi spingono a usare e a tuffarvi nella scoperta di vari, eventuali nuovi contatti con cui mettere alla prova la vostra personalità. E vi scoprite particolarmente disinvolti nell'ambiente sociale. Se cercate l'amore, guardatevi con molta attenzione attorno, Plutone vi fornisce le armi di seduzione potentissime per trovarlo. Lavoro e denaro In viaggio per meeting o trattative che vanno più alla lunga rispetto al previsto. Anche lo spostamento può comportare qualche problema, innanzitutto un gran caldo, disagi e ritardi sulla tabella di marcia. In ripesa per vostra fortuna i vostri risparmi, il piano di investimento sta funzionando alla grande, un pensiero di gratitudine va al vostro consulente che stavolta ha visto davvero giusto. Il sole, nel segno vostro dialettico e complementare del cancro, sembra provocarvi beneficamente e stanarvi. Sempre il sole luminare maschile, pare farla apposta a mettere in luce il vostro talento organizzativo in vista di obiettivi prestigiosi. Laboriosi e sereni, costruttivi e un po' imprevedibili, così siete oggi a lavoro. La passione per l'ordine, il rispetto dei tempi giusti vi faranno poi buon gioco in ogni impresa professionale vorrete realizzare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 19 di gennaio. Benessere. Di mattina quando ancora è fresco partite in quarta sgommando, ma a sera come tutti vi ritrovate spappolati con una faccia d'agonia. Tranquilli, una volta a casa dopo una doccia rinfrescante recupererete lentamente le forze e il buon umore. Yoga e meditazione aiuta a sopportare tutti i disagi, calura inclusa. Denaro. Con il bel rapporto che si verifica in toro, segno vostro amico tra il pianeta del denaro, Giove e quello dell'oro, Urano, sarete oggi fortunati in tutto ciò che toccate. Favoriti gli investimenti in banca e anche le impreviste vincite al gioco. Per lei, il vostro amico ha quattro zampe ve ne combina di tutti i colori, in casa vi fa i disastri, fuori vi scappa, mandandovi in fibrillazione. Eppure non lo cambiereste mai, neppure con un pelosetto di razza, buono, educato, obbediente. Voi adorate lui. Per lui, tra pensiero e azione oggi non corre buon sangue, riflettete a lungo su una cosa e poi neanche farlo apposta fate l'esatto contrario in tutta fretta. Ricordatevi di attaccare la testa alla bocca e alla mano. Colore delle emozioni, marrone bruciato. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. 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 Grazie.